Oggi facciamo un primo piatto buonissimo, paste, patate e cozze. Iniziamo mettendo uno spicchio d'aglio schiacciato all'interno di una pentola, aggiungiamo un filo d'olio d'oliva e due patate tagliate a pezzettini piccoli. In seguito andremo a mettere anche un bel cucchiaio di concentrato di pomodoro. Mescoliamo e facciamo soffriggere il tutto per circa 3-4 minuti. In seguito andremo ad aggiungere la pasta, in questo caso ho utilizzato le pipe rigate, ma va benissimo in qualsiasi altro tipo di pasta corta, e l'acqua di cottura delle nostre cozze, che deve essere bella calda. Mescoliamo un pochino e allunghiamo anche con un altro po' di acqua calda. Le cozze, quando vengono cotte in padella con uno spicchietto d'aglio e un po' d'olio, rilasciano un bel po' d'acqua. Quell'acqua va filtrata e dopodiché la allungate con dell'acqua normale, perché è molto salata. Se non sapete come cuocere le cozze, vi lascio alla fine di questo video un altro video dove ho spiegato tutto quanto. Fatto questo, dobbiamo semi coprire la nostra pentola e far cuocere la pasta per il tempo indicato nella confessione. Vedrete che cuocendo la pasta in questo modo verrà cremosissima ragazzi, perché c'è l'amido delle patate e l'amido che rilascerà la pasta in acqua non verrà perso, perché si cuoce nella stessa acqua in cui andiamo a mangiarla. È molto cremosa questa pasta. Una volta che la pasta è pronta, non dobbiamo fare altro che aggiungere le cozze che abbiamo sgusciato, dare una bella mescolata e infine aggiungete una bella manciata di pecorino romano. Ebbene sì, avete sentito bene, ci aggiungo il formaggio. Qui dalle mie parti, io sto vicino Roma, cozze e pecorino è un classico e se non l'avete mai assaggiato dovete assaggiare, perché il pecorino si abbina veramente benissimo alle cozze. L'unica cosa è che dovete stare attenti a non aggiungere sale, come avete visto io non ho aggiunto sale per niente, perché c'è l'acqua delle cozze che è molto salata e c'è anche il pecorino romano che è salato. Fatto questo non vi resta che dare una bella mescolata e aggiungere un po' di prezzemolo. E ecco che la nostra pasta, patate e cozze è pronta per essere servita. Provatela perché è squisita e vi ricordo che trovate questa e tutte le altre ricette iscritte sul mio sito www.ricetedigabri.it Vi aspetto un bacione e ci rivediamo prestissimo sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!